Caccia del Verona, ma il Verona non lo vuole dar via in questo momento, anche il ragazzo non sarebbe molto convinto, perché nel frattempo Longo dovrebbe andare all'Espagnol, dico dovrebbe perché oggi lui sarebbe dovuto partire, ma l'Inter che ha avuto una giornata un po' più intensa rispetto a Longo, non ha trovato l'accordo con il Levante, non è arrivato l'ok, Longo si è allenato a Verona con i suoi compagni, ex compagni, futuri compagni, insomma l'accordo ancora non è arrivato definito, però è stato tutto fatto. Il Catania ha un interesse per Giannetti, Del Chievo potrebbe chiudere per Paredes, la Cagliere non è finita qui, perché oggi c'è stato un incontro con il Cesena per Tabanelli, piace anche Munari, che è il centrocampista della Samp di proprietà del Parma, sempre a proposito di Serie B, il Cesena idea Sampirisi e oggi dovrebbe chiudere Bellingheri proprio dal Livorno, il Pescara abbiamo detto è arrivato in nulla osta per Caprare e allenarsi con la squadra, non prenderà Rispoli dalla Ternana, via Parma, ma potrebbe arrivare Ceccarelli, è arrivato a Pescara invece Milicevic, che è un croato di vent'anni e domani farà le visite mediche, trasferimento a titolo definitivo. Il Siena ha preso Plasmati dal Sassuolo, dal Lanciano, il Lanciano potrebbe sostituirlo con Comi e all'estero una notizia molto curiosa che arriva dall'Eire Divise, perché Pellè, che peraltro ha fatto un gol strepitoso l'ultima settimana, che gioca nel Feyenoord, di interesse al West Ham, ma ha ricevuto un'offerta pazzesca, il Feyenoord, da 8 milioni di euro dall'Alcaish, quindi se il cartellino di Pellè costa 8 milioni secondo l'Alcaish, magari il contratto di Pellè potrebbe essere altrettanto ricco. Pellè potrebbe anche iniziare a interessare a Prandelli, con quello che sta combinando in gol o con la moria di attaccanti, dici? Eh beh, per entrambi i motivi, dai. No, beh, il gol, vi devo dire, che Pellè ci ha regalato tantissimi... Ah, anche con la maglia azzurra dell'Under 21, se non sbaglio, ha fatto diversi gol.